Intervista con Asha Volos, 3 a 2 combattutissimo in quel di Cuneo, 73 vittorie per i Moco Volley Conegliano. Sì, è stata una partita molto tosta, Conegliano ha giocato molto molto bene in difesa, in attacco hanno dato molto molto fastidio e noi per tanto tempo non riuscivamo a trovare il modo per curare e anche difendere, quindi hanno dato molto molto più tanto fastidio. Ma per fortuna abbiamo spinto alla grande e abbiamo portato questa vittoria a casa, adesso siamo in pari con un record e non vogliamo fermarci, vogliamo continuare questa strada, per noi non è mai abbastanza, quindi è già, secondo me, guardiamo per la prossima partita perché giochiamo a casa e vogliamo battere questo record e vediamo, adesso dobbiamo riposare un po', è stata una trasferta lunga, ma sono contenta e felice che torniamo a casa con sorriso e possiamo adesso riposare un po'. Quindi appuntamento la domenica prossima alle 17 al Palaverde contro Trentino Rossi, una partita che potrebbe entrare nella storia, quindi chiaramente. Sì, esatto, quindi voi non vi mancate, comprate i biletti e vi aspettiamo a Palaverde. Grazie Ascia. Ciao.